Non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da aeroporti di Puglia che avrebbe risolto almeno in parte i problemi all'aeroporto Gino Liso di Foggia, la Blue Wings ha sospeso i voli per Milano. Oggi sopralluogo in aeroporto dei responsabili operativi della compagnia per verificare che le procedure atte a supportare le attività di volo siano state attivate. Constatato ciò, provvederemo in tempi brevissimi al ripristino della programmazione voli attualmente sospesa, assicura il referente italiano di Blue Wings, Valerio Zifaro. La compagnia londinese ribadisce inoltre di aver attivato tutte le procedure contemplate dalla Carta dei diritti del passeggero, aggiungendo che soltanto uno dei passeggeri ha accettato il rimborso del biglietto con cui sarebbe dovuto partire oggi, mentre gli altri si sono resi disponibili a procrastinare la prenotazione e alla ripartenza dei voli, per la quale bisognerà attendere ancora qualche giorno.